Salve a tutti, oggi impareremo a fare le vere lasagne alla bolognese come le faceva la mia nonna Lasagne alla bolognese Adesso vi piglia il tegame e vi mi fai un bel soffrittino con l'olio diciamo della carvana Vedete con il dito, ecco prendiamo l'olio giallo come il piscio Poi tu pigli un tegame e tu ci butti diciamo la cipollina tritata E tu mi fai un bel soffrittino, vedete che spettacolo ragazzi, ci butti il sale Ah molto importante, non vi scordate per la lasagna alla bolognese il prosciutto hotto Molto fondamentale questo vasetto di prosciutto hotto, vedete con le mani oditi voi andate alle bagnane dai vasetto Allora io lo so bene la lasagna alla bolognese la soffa bene perché diciamo anche se io sto a sappiare appunti C'è una nonna che era di Bologna Allora vedete, si fa pigliare qui il colorino diciamo dorato, si sbruciacchia Poi andiamo a mettere in macinato, di molto importante metà mucca metà maiale Vedete che classico ragazzi, una volta l'ha preso il bollore, gli ha preso il fuo diciamo E si va ad aggiungere la carota, la carota diciamo da qui il saforino dolci, dolciasto, san mastro Vedete, questa è la nonna di carota che la vi ho sotterra io diciamo nel giardino Vedete che spettacolarità ragazzi Ecco adesso una volta fatti il sugo, voi me la andate a conservare a parte Perché si adopererà fra un po' e nino, vedete, mettetelo in nini Ecco una volta gli ha preso, vedete, il tegame, là ho preparato la pesciamella E qui ho preparato il sugo, si ci mette il tegame, uno sopra l'altro, uno sopra l'altro, uno sopra l'altro E alla fine della lasagna gli è facile Ma andiamo a prepararnene, vedete, si va a mettere diciamo in il tegame sugnoso, sugoso Uno strago di lasagna e uno strago di pesciamella Questo sugo fatto da me è un altro strago ancora di lasagna Oio nini come ne ne fa io, non ne ne fa nessuno, che classe, sanno una sega a Bologna come si fa a fare le lasagne alla bolognese Allora vedete, io uso soltanto pomodori di roncovilaccio diciamo e questo formaggio di Mugello Il tegame l'ho comprata a Scarperia e la Troia alla Tuzia Allora vediamo un pochino come si fa, adesso andiamo alla parte finale, l'ultimo strato Ma comunque voglio ricordare a tutti che io ho delle origini bolognesi E diciamo che la prossima volta vi insegnerò a fare anche diciamo il tortello di pavana Perché anche quello lì come lo faccio io non lo fa nessuno Si aspetta comunque quelle tre o quattro ore e si fa rivolire, rigonfiare Ma voilà, guardiamo qui che spettacolo ragazzi, che profumo Che profumo, ti ha bruciato in fondo, diciamo se hai carbonizzato ma la parte sopra ti è rimasta buona Ma andiamo adesso all'impiattaggio, se andiamo a impiattagnere Vedete, che spettacolo, vedete questa è la vera lasagna alla bolognese Perché a Bologna la servono sempre dentro la ciotola di gatto Questa è la ciotola di gatto, dove vedi gatto Ora si sa avviare ragione Ora non è per vantazione ragazzi, ma come mi vengano a me E la mia nonna non gli vengono a nessuno Sanno una sega a Bologna, a Rocco Vilaccio Ora io puoi dire, non è per vantazione, se vuoi a Pavala puoi dire Gli figli li battono nel muro, si sentano bolognesi, gli hanno più pistogliesi Dillo io, le lasagne, lasciatele fare a me, nanni Ora non voglio fare l'egrocentrio, insomma come mi vengano a me A te non ti verranno mai Buonasera a tutti, alla prossima puntata Vi insegnerò a fare i famosi tortelli di pavana Bohaioli, c'è le paste E queste che ho fatto io, non è meglio delle tue Grazie a tutti